ho paura armando anch'io teresa ma può darsi che a noi qui al sud non ci tocchi che se ne resti buono buono la sua nord si ma vincenzo non ci pensi lui è lì col rischio del contagio solo senza un amico un familiare vincenzo è giovane ha 27 anni a quanto pare questo virus se la prende soprattutto con le persone anziane debilitate con già patologie pregresse ma perché che gli abbiamo fatto noi di una certa età gli diamo fastidio non lo so teresa però è così almeno a sentire quello che dicono gli esperti armando era un professore di filosofia in pensione aveva 69 anni ben portati soffriva solo di una leggera ipertensione che teneva sotto controllo con una piloletta di antipertensivo al mattino chi è che non ne soffre si schermiva quando teresa gli faceva notare la mattina si alzava presto all'alba e andava a correre nel bosco di capo di monte non aveva un filo di grasso alto ma non altissimo con ancora tutti i capelli anche se ingrigiti solo qualche ruga che gli sorcava il viso una in particolare quella più profonda gli appariva come per magia sulla guancia destra quando sorrideva donandogli un fascino particolare la moglie due anni in meno ex assistente amministrativa nello stesso istituto dove insegnava lui ne era ancora innamorata diceva che somigliava a james bond all'unico e vero james bond sean connery rispetto al marito aveva qualche acciacco in più una persistente aritmia che la faceva spesso andare in tilt associata a una forte colesterolemia di pomeriggio dopo aver lavato riposto piatti posate pentole le piaceva ricamare col sottofondo della tv la lettura limitata a qualche coloratissima rivista femminile non era il suo forte si giustificava asserendo che preferiva l'ascolto poi c'era il gatto un andaggio dal manto grigio striato di nero che avevano adottato da piccolissimo scegliendolo tra i micetti di una consistente cucciolata che alcuni ragazzini avevano scoperto in un cantiere poco lontano dalla loro abitazione lo avevano chiamato da subito baffo certo non era un nome molto originale per un gatto ma loro era venuto con spontaneità condivisa e non avevano cambiato idea se è vero come afferma qualcuno che i luoghi sono le persone che li abitano quell'appartamento in via numero interno terzo piano non era solo un insieme di pavimenti pareti termosifoni stanze corridoi bagni cucine mobili lampadari e quant'altro ci si aspetti componga un qualsiasi immobile abitato bensì un luogo impregnato degli umori sofferenze speranze ricordi spirito di chi ormai vi risiedeva da una vita questa casa un'anima diceva teresa sono certa che se dovessimo andare via soffrirebbe e ci seguirebbe ovunque dappertutto torturandoci con la sua presenza occulta come fanno i fantasmi con coloro che in vita gli hanno fatto un torto ogni cosa parlava di loro dallo sgabello scolorato in legno abbandonato nella cantinola a livello che armando armato di sega chiodi pinza e martello aveva realizzato da solo nei primi anni di matrimonio alla bicicletta da camera sulla quale teresa in una vita precedente si era esercitata con ostinata caparbietà per cercare di conservare la linea dal vecchio vocabolario ingiallito di latino che lui da adolescente aveva utilizzato al liceo alle due paia di sci che avevano comprato molto tempo addietro in tempi remoti preistorici convinti erroneamente che sarebbero presto diventati provetti sciatori e di cui poi avrebbero dimenticato persino l'esistenza la maggior parte del tempo la passavano in cucina uno spazio non molto grande ma confortevole arredato con moduli laminato come si usava tra gli anni 70 e 80 la c'era anche un piccolo televisore il grande era nel salotto è vero armando che se al pronto soccorso arriva contemporaneamente un numero di contagiati superiore ai posti disponibili in terapia intensiva a noi anziani ci lasciano fuori e ci lasciano morire non lo so teresa è una voce che gira non c'è niente di ufficiale sì ma tu che dici te lo ripeto non lo so forse sì forse no spero proprio di no che brutta cosa armando che brutta cosa l'epidemia non era stata arrestata contenuta nei vari focolai dal nord si era estesa anche al sud dove si erano già avuti alcuni casi ancora pochi ma le proiezioni raccontavano che sarebbero cresciuti di numero che rischiavamo la catastrofe perché qui non eravamo attrezzati e la sanità pubblica era pressoché inesistente non c'era un vaccino né una cura specifica l'unica certezza il virus viaggiava con l'uomo ospite del suo corpo per arrestarne la marcia l'unica soluzione era restare tappati in casa uscire solo per estrema necessità il governo aveva emanato dei decreti a riguardo che prevedevano per chi contravveniva multe salatissime e persino la carcerazione per uscire occorreva un'autocertificazione che attestasse il motivo ben dettagliato della necessità dell'uscita Armando era davanti alla tv con baffo accoccolato sulle ginocchia che gli faceva le fusa mentre lui gli accarezzava il morbido pelo sullo schermo scorrevano le immagini dei camion militari con dentro le bare dei morti per covid-19 che procedevano incolonnati uno dietro l'altro nelle strade deserte di Bergamo in uno spettrale silenzio destinazione l'inceneritore non c'era nessun familiare nessun amico o parente per l'estremo saluto non era loro permesso per evitare ulteriori contagi sembrava uno di quei lugubri film distopici dove in seguito a guerre, disastri, epidemie il mondo è un desertico susseguirsi di rovine tra le quali si nascondono i rari superstiti per sfuggire a esseri mostruosi e mutanti la minacciosa creatura che costringeva a noi in casa era invece un microscopico e invisibile essere un virus che si introduceva subdulamente nei nostri corpi e ci trasformava in killer dei nostri simili io non ce loco la morte non sono tra quelli che considerano la morte ingiusta perché trovo ragionevole che dopo aver vissuto gli anni che ci è stato concesso di vivere lasciamo il posto a chi viene dopo disse Armando rivolto a Baffo che lo fissava come per chiedergli perché gli facesse quei discorsi è vero Baffo noi non possiamo fare esperienza della nostra morte e quindi quei poveretti nelle bare là sui camion nemmeno se ne accorgono del fatto che gli hanno legato i funerali continuò ma se non possiamo fare esperienza della nostra possiamo però farne di quella degli altri e il funerale non serve ai morti serve ai vivi Baffo come improvvisamente infastidito si divincolò dalle carezze con un salto scivolò sul pavimento andando ad accucciarsi in un angolo della cucina da dove per un po' continuò a fissare il padrone Armando io penso a Vincenzo fece Teresa te l'ho detto Teresa questo virus se la prende soprattutto con le persone anziane debilitate con patologie pregresse Vincenzo è giovane con una salute di ferro non ha nulla da temere ma io sto in pensiero lo stesso disse lei in realtà anche se non lo diceva pure Armando era preoccupato in fondo di questo virus non si sapeva accunché si procedeva per tentativi ed errori anche questa cosa di restare chiusi in casa non lo convinceva del tutto sì è vero si moriva ma c'era anche chi non aveva avuto bisogno di restare in ospedale addirittura chi era stato contagiato e neanche se n'era accorto se la sanità pubblica non fosse stata distrutta se non ci fossero stati tutti quei tagli se non fossero mancati i medici e infermieri i letti e le attrezzature di certo si sarebbe potuto uscire con maggiore tranquillità rispettando ovviamente le prescritte distanze di sicurezza restare in casa non gli dispiaceva ma il pensiero di esserci costretto lo infastidiva temeva che a lungo andare col passare del tempo avrebbe avuto difficoltà ad avvicinarsi all'altro e che anche dopo avrebbe continuato a mantenere le distanze a temere un abbraccio un bacio in sintesi aveva il timore che non sarebbe stato in grado di elaborare il lutto di non riuscire a rendersi conto che il virus non c'era più e che si era tornato alla normalità il telefono squillò Teresa lasciò i ferri e i gomitori di lana si precipitò all'apparecchio come per un presentimento era il figlio è Vincenzo gridò la donna rivolta al marito chiedigli come sta disse lui come stai Vincenzo non ti preoccupare mamma sto bene e tu? bene figlio mio e papà? pure lui dove sei? a casa tua? no mamma sto alla stazione alla stazione? quale? quella di Milano? no mamma sto a Napoli me ne sono tornato il tempo di prendere un taxi e sono da te non sei contenta mamma? certo che sono contenta figlio mio perché non dovrei esserlo? vieni ti aspetto il marito aveva ascoltato tutto e si era fatto scuro in volto Armando Vincenzo è tornato sta venendo qua è un incosciente non doveva farlo Armando ma sei impazzito? perché doveva restare lassù? da solo in mezzo a tutta quella gente che muore con il rischio di morire anche lui primo perché non si poteva e non doveva le disposizioni dicono che non si può lasciare la regione nella quale si risiede secondo lui si porta il virus dietro e può contagiare anche te e ovviamente me terzo e ultimo mentre a lui il virus magari non gli fa niente a noi che siamo anziani ci può far morire a me non importa il pensiero di poter morire con nostro figlio lontano mi terrorizza più del contagio stesso sono contenta che sia qui con noi e non capisco perché non lo sia anche tu non ti facevo così meschino è inutile che continuiamo tu non ragioni o non vuoi sei tu che non ragioni quello è il nostro figlio proprio perché il nostro figlio doveva restare là e non venire qua allo squilo del citofono la donna si alzò dal divano e supplicò il marito di non infierire sul ragazzo lei il figlio lo chiamava ancora così mi spiace papà e ti capisco ma non ce la facevo a restare lassù a morire da solo e col pensiero di voi due qua giù e poi la fabbrica l'hanno chiusa e chissà quando e se la riapriranno non ti vergogni hai sentito il bollettino dicono che per colpa vostra di voi meridionali del nord il virus si diffonderà con virulenza anche qui da noi al sud la polizia ha fermato il treno a caserta e ci ha sottoposto a certamenti sono risultato negativo ti hanno sottoposto al tampone? no ci hanno misurato la febbre e constatato se avessimo tosse o altri fastidi all'apparato respiratorio quindi non è certo che sia negativo magari lo sei ma senza la prova del tampone chi lo può affermare? nessuno al massimo si può affermare che non presenti sintomi che sei asintomatico perché mi sei così ostile papà? non ti riconosco perché ci tengo alla vita di tua madre temo per la sua salute ha una certa età e qualche acciacco ecco perché ce l'ho con te oggi chi vuol bene a un suo calo si tiene a distanza non gli ti arretta Vincenzo intervenne la moglie contraviata il virus a tuo padre gli ha dato la testa vieni di là che tieni freschi un po' e mangi qualcosa Armando sempre più arrabbiato col figlio gli intimò di non rivolgergli la parola per tutto il tempo che sarebbe rimasto in casa perché quello che avevano da dirsi era stato detto e non c'era altro da aggiungere la cosa adorava molto la moglie ma conoscendo il marito sapeva che era inutile insistere non avrebbe ottenuto che peggiorare la situazione i due cercavano di scegliere orari diversi per evitare di spiorarsi e le rare volte che ritenevano di avere qualcosa di significativo da comunicarsi lo facevano per interposta persona ovviamente tramite Teresa stamani ho incontrato salendo le scale i ragionieri di sotto disse Armando alla moglie a stento mi ha salutato poi l'ho sentito che diceva ad alta voce al portiere per farmi capire chiaramente che ce l'aveva con me di avere maggiore cura dell'igiene degli spazi comuni di usare molto disinfettante perché di questi tempi non si sa mai e l'ho visto alzare lo sguardo nella mia direzione l'avrei preso per il collo e strozzato ma ho desistito e hai fatto bene perché ti sei sbagliato non ce l'aveva con te tu comunque faglielo sapere al tuo figlio al mio figlio sì tuo figlio mio figlio allora visto che non è più anche figlio tuo mi ha pregato di farti sapere che non appena passano le due settimane di permanenza in questa casa che la polizia gli ha imposto secondo le disposizioni vigenti toglie il disturbo e se ne torna su contento? a pranzo la donna in piena crisi di nervi si alzò e urlò quasi piangendo questo virus ci ha contagiato di tutti senza contagiarci ci ha inculcato il sospetto il timore che l'altro chiunque sia uno sconosciuto come un amico un figlio come la moglie o il marito possa essere l'untore il potenziale assassino che attenta la nostra vita di fatto ci ha tolto la libertà facendoci accettare di vivere rinchiusi in casa come detenuti in carcere ha abolito baci abbracci strette di mano ci ha resi strani in un l'altro incapaci di relazionarci di sentirci comunità e lo ha fatto con il nostro consenso ma io non ci sto io non so vivere così mamma calmati ti fa male disse il figlio alzandosi e invitandola a sedersi il marito nel frattempo aveva abbassato gli occhi sentendosi in parte responsabile tu tu sei cambiato continuò lei rivolta a lui cambiato no che dico tu ti sei trasformato sei diventato un mostro cinico senza sentimento che vuoi che io muoia che me ne vada come quei poveretti sul camion senza nessuno che possa accompagnarmi al cimitero e mentre diceva questo cominciò a tremare a tossire una tosse convulsa e secca e a sentire la testa che le girava i due padre e figlio dimentichi della distanza che si erano imposti la presero e l'accompagnarono a letto le misurarono la febbre non era molto alta ma c'era durante la notte la febbre aumentò e sopravvennero delle crisi respiratorie accompagnate da una tosse che come un martello le batteva nel petto squarciandoglielo armando chiamò il figlio che era già in piedi accanto allo stipite della porta richiamato dai lamenti della donna e dai colpi di tosse chiama il centottodici presto gridò il padre appena venti minuti e suonarono al citofono erano loro quando entrarono erano in tre il medico e due infermieri tutti con mascherine ffp2 visiere occhiali protettivi tute guanti sembravano alieni venuti da un altro pianeta tutti bianchi dalla testa ai piedi gli si vedevano solo gli occhi forse nemmeno quelli e la voce sembrava venire dalle viscere dell'ultretomba il primo pensiero di Armando fu per Teresa ora si spaventa e mi muore infatti non appena li vide la donna già tormentata dal pensiero di essere stata contagiata dal covid-19 spalancò gli occhi in preda al terrore e divenne livida in volto invasa nel medesimo istante da un inarrestabile tremito no no chi sono che vogliono urlò protendendo in avanti a scudo le braccia calmati Teresa e sussurrò il marito abbracciandola è il dottore vuole solo capire cos'hai non voglio andare in ospedale ho paura ascoltiamo il dottore lui saprà consigliarci per il meglio intanto anche Vincenzo si era avvicinato papà ha ragione mamma sentiamo il dottore alla vista del figlio che le sorrideva e del marito che la guardava con tenerezza la donna cominciò a calmarsi e a convincersi che non c'era altro da fare il medico le rimisurò la febbre le controllò la pressione e la auscultò infine sentenziò non è detto che sia il covid-19 il fatto che la signora quest'anno non si sia sottoposta alla vaccinazione anti-influenzale potrebbe far propendere a favore dell'ipotesi che possa trattarsi solo dell'acutizzazione di un male sagionale ma per esserne certi dobbiamo sottoporla al tampone i sintomi potrebbero è vero suggerirci che possa anche essere altro per uscire dal forze però la signora deve venire da noi e sottoporsi ad accertamenti del resto non possiamo sottovalutare che suo figlio come lei Aurora mi ha detto si è trasferito qui da alcuni giorni da uno dei tanti focolai di contagio suo al nord non si può fare altrimenti chiese Armando se dovesse trattarsi del covid-19 e la signora dovesse improvvisamente aggravarsi considerando anche l'età e gli acciacchi metteremo a rischio la sua vita e renderemo più difficoltoso qualsiasi percorso di guarigione invece se si tratta di un normale sia pur grave malessere di stagione entro 24 o 48 ore potremmo anche dimetterla hai sentito Teresa quel che ha detto il dottore disse l'uomo rivolto alla moglie si ho sentito devo andare in ospedale non devi è preferibile tu che dici figlio chiese la donna si penso anch'io come papà che sia meglio e va bene così sia dottore come faccio a sapere disse Armando al dottore appartandosi un attimo con lui entro il primo pomeriggio di domani le faremo sapere mi raccomando non c'è alcuna necessità di raccomandarsi ci comportiamo con tutti con impegno e coscienza è tutta colpa mia disse Vincenzo subito dopo che il padre aveva chiuso la porta d'ingresso non dovevo venirmene qui avevi ragione tu come sempre lascia perdere non è colpa tua è colpa del virus e di tutti quanti noi che abbiamo pensato di disporre a nostro piacimento della natura senza tener conto delle sue esigenze violentandola ma la natura non ammette prepotenze e si ribella ci sono dei limiti oltre i quali non ci è concesso andare e noi lo abbiamo dimenticato il virus è figlio della nostra strafottenza e ottusità la natura esige rispetto sì intanto mamma è in ospedale chissà se ne uscirà vai a dormire dai che tra poco è l'alba e tu che fai io non ho sonno e comunque non riuscirei a dormire mi siedo un po' in cucina e tra una sigaretta e una tazzina di caffè aspetterò il sorgere del sole ti faccio compagnia penso che anch'io stanotte non riuscirei a dormire Baffo che si era allontanato dalla sua cuccia allarmato e incuriosito dal biavai dei padroni e dall'arrivo dei sanitari andò a stiracchiarsi contro le gambe di Armando che nel frattempo si era seduto accanto al balcone vieni dai salta disse l'uomo invitandolo con un gesto il gatto non si fece pregare e un attimo dopo era acciambellato sulle sue gambe che dici papà mamma ce la farà spero di sì senza sarei perso non avrei ragioni per andare avanti lo so non lo dici ma lo pensi è tutta colpa mia non ti angustiare le cose a volte accadono indipendentemente da noi e comunque nessuno può tornare indietro ora dobbiamo solo attendere deve solo passare il tempo che ci vuole ogni cosa ha il suo tempo e questo è il tempo dell'attesa è il tempo che ci vuole è il tempo Grazie a tutti